Sì, condizioni di maltempo domani direi che arriverà abbastanza rapido, dopo una giornata tranquilla, quella di oggi, con temperature che sono sese già a livelli invernali durante le ore notturne, c'è questo peggioramento dovuto all'arrivo di una depressione dall'Atlantico che a sua volta darà origine a un minimo barico proprio sull'alto Adriatico, un minimo abbastanza profondo che richiamerà correnti molto umide in quota da sud-est e correnti forti o molto forti di bora nei bassi strati, ci aspettiamo quindi domani mattina piogge intense su gran parte del territorio e ci sarà già probabilmente l'acqua alta domani mattina già dopo le 7 sulla costa dei valori di acqua alta dovuti sia alla componente astronomica che a quella meteorologica importanti e poi appunto la bora che inizierà a soffiare progressivamente nel corso della mattinata diventando anche molto forte nelle ore centrali, sono attese raffiche di vento a Trieste ma non solo sul golfo anche davanti a Grado, oltre i 100 probabilmente anche 110-120 km orari, insieme a questo anche la neve come dicevate arriverà una bella nevicata, questo senz'altro è un elemento molto atteso in montagna, una nevicata che dovrebbe interessare tutta la zona montana sulle prealpi a partire dai 1000-1200 metri di quota e nelle zone più interne quindi in Carnia e nelle zone più interne intorno agli 800 e nel Tarvisiano addirittura in Val Canale fino a Ponteba quindi scenderemo anche fino a 500-600 metri di quota. Una situazione che dovrebbe protarsi per alcuni giorni? No, diciamo che la tendenza è come abbiamo osservato in diverse occasioni, molto rapido cioè domani una giornata di marcato maltempo ma poi anche un miglioramento veloce e quindi già mercoledì dovremo avere tempo tutto sommato buono. Che inverno dovremo aspettarci Nordio? Probabilmente sarà un inverno un po' più dinamico del precedente, lo scorso inverno le precipitazioni sono state praticamente quasi assenti per un lungo periodo, sembra invece quest'anno che ci siano più fronti in arrivo e quindi senz'altro ci sarà l'occasione per avere pioggia in pianura ma anche per avere delle nevicate in montagna, oltre a questo episodio ce ne arriveranno altri.